È magnifica Lugano. Guardando questo lago mi viene in mente il mio figlio, mio figlio Massimo, adesso ha 17 anni, ma diversi anni fa, eravamo a Milano, ricordo che Massimo aveva 12 anni, e gli disse se sei buono domani ti porto a Como, eravamo nella vicinanza di Milano, ti porterò sul lago. Il bambino disse no no sul lago no, mi dice mi pungo, il lago, mi capisco appunto mio figlio guardando il lago, mi ricordava questa. Quindi lei è abituato a divertire la gente, ma Carlo Datteporto cosa diverte di più? Cosa diverte di più? La politica penso, ma non so, sto a guardare questi uomini politici, logicamente guardo questi uomini, come posso guardare dalle squadre di calcio, e spero che vinca quello perché il mio più simpatico deve essere più buono dell'altro. E c'ha quindi una cosa che non la diverte affatto? La bronchite.